Nessun candidato a sindaco davvero papabile, e con la sensazione che al momento il bandolo della matassa ancora non ci sia. . Il Movimento 5 Stelle resta attualmente ai box in vista delle elezioni del 21 ottobre. . In realtà la quadra attorno a un portavoce è lanciare come aspirante primo cittadino appare lontana ed anche la poca esposizione mediatica in queste settimane di chi anima il movimento in città la dice lunga sull'attuale fase di stanca. . . Tra i nomi circolati c'è quello dell'avvocato penalista Domenico Speranza oltre ad altri di quelli più attivi in questi anni al di fuori delle istituzioni, visto che il Movimento 5 Stelle non faceva parte del precedente civico consesso poi sciolto per infiltrazioni della criminalità organizzata. . . . Il tempo però, stringe e saranno settimane decisive per la scelta del candidato da lanciare. . 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